Seeking Unicorns è un lavoro che ha il desiderio di dilatare il primo incontro tra persone che non si conoscono e che istintivamente proiettano sulla persona che incontrano degli immaginari loro basandosi semplicemente sulla forma del corpo che vedono i pregiudizi, insomma, quelli che vengono comunemente chiamati pregiudizi. Se il primo pensiero, che può essere un pensiero istintivo, legato alla cultura in cui siamo cresciute, legato al nostro essere animale, legato a tante cose, possiamo anche accettare che è un pensiero complesso da controllare, però sicuramente il secondo pensiero, quello che avviene un attimo dopo che per la prima volta hai visto qualcuno, è un pensiero che noi possiamo dirottare e possiamo dirottare sia guardando un'altra persona sia facendoci guardare dall'altra persona.